Ehi, come ha compito bene il G2. 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 e l'antico viene una volta che ci vediamo, non ci vediamo. Ma conto da qui non c'è nessun problema, che non c'è nessun problema, decisamente è un vinto. Guarda, stacco, vede che gli altri due sono andati al suo carrello, quindi non c'è nessuno Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Luca deve... No... Meno peso. Ogni... No... 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 Tu hai... No...